La tragedia sfiorata stamattina attorno alle 8 in seguito al crollo avvenuto nella galleria Luzeno tra Lierna e Mandello Dell'Ario in direzione Milano lungo la statale 36 poi chiusa il traffico fino alle 14 ha provocato innumerevoli disagi e sollevato altrettante polemiche. Sulla sicurezza innanzitutto ma anche di fronte all'evidenza di quanto ancora oggi sia precario il collegamento dalla valle con Milano di come sia facile rimanere isolati di come sia un terno all'otto muoversi sia su gomma che in treno. Treno che in una giornata come quella odierna non ha rappresentato di certo una valida alternativa perché in seguito all'urto tra due treni merci tra le stazioni di Milano Villa Pizzone e Milano Lambrate si sono registrati rallentamenti e variazioni di percorso che hanno interessato anche la linea Tirano Milano. Insomma un autentico delirio che rischia tra l'altro di protarsi e di allungarsi anche sul traffico del weekend perché la corsia di 36 riaperta alle 14 di oggi a partire dalle 21 di questa sera sarà richiusa per consentire la continuazione dei lavori di ripristino. Il traffico sarà quindi dirottato sulla provinciale Sondio direzione Lecco e nei prossimi giorni toccherà ad Anas aggiornare sulle nuove chiusure.